Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Ragi, un ancient epic. Nello scorso episodio abbiamo battuto Rangda e siamo stati portati in cielo, diciamo, siamo stati portati in cielo da questo pavone bianco, che adesso se hanno detto il nome mi sfugge. Ok, e niente, proseguiamo. Dobbiamo continuare la ricerca del fratello. Che paura. Ah, è vero, eravamo nei cieli dove ci sono i mistici. Eh, vabbè, questa cosa con lo scudo è fortissima comunque, quest'arma. Cioè. Guardate. Mi si è scollegato il controller, aspettate! Non è valido. Eccomi qua, adesso ne riparliamo. Punto. Mi che impaccia. Ah, ci ha dato anche della vita, quindi il nostro errore non è... non ci ha cambiato la vita. Mi ha basso un po' il volume dalle cuffie perché mi sta distruggendo il timpani. Eh, saliamo verso quest'albero. Chissà quanto dobbiamo salire. E chissà soprattutto quanto manca al gioco. Non potranno continuare a scappare col fratello. Io devo andare. Devo salire sopra la testa? No, non mi fa andare sopra la testa. Ah, devo girare qua intorno. Se premo B. Ok. Attenzione. Ecco qua. Potrei aver fatto una cazzata. A dove ci fare prendere? Da qui, ok. Meno male. Gira, 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 gira. Vai. Gira, 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 gira. Vai. Scendi. Ok. Combattimento. Ah, il fuoco vi fa male? Punti. E intanto ti calmi perché c'è gente forte. Sì, tu che stai sottovalutando l'oro in realtà, eh. Però... Che paura, giusto giusto. Perchè è rosso questo? Forse è del fuoco? Ricotta la mette ora in testa. Ti è piaciuta? Che culo. Sali. Che succede? Sono tipo bloccati magicamente. Non dici niente su questo? Ok. Cosa dovrei fare? Ho già tutto. Ok. Va, vabbè. Proseguiamo, direi. Ehm, non so se... Saltare insieme a questi? No? Dubito che fosse un extra. Andare qua e basta. Ehm, non mi faceva andare prima, ok? Idiota. Andiamo. Proseguiamo. Facciamo finta che non sia successo niente. Ehm, allora. Ogni volta che sbatte... Evoca qualcosa, quindi. Eliminato uno. Ok, adesso non puoi più evocare niente. Ammette ora ti hai fatto male. Ok, eh, no. Non è morto. Ti elimino con l'arco, allora. Perfetto. E ora? Dove vado? Scendo qua giù? No? Ah, c'è un ponte, ok. Attenzione. Altre persone? Ok, due di quelli velocissimi. Che culo. Che culo. Allora. Eliminato. Eliminato. Sì, sono gli elementi, quindi lui è del fuoco. Altra era del fulmine. Potresti pungerlo, per favore? Grazie. Andiamo di qua. Ma chi è questa gente che ha penzoloni in aria? Stiamo attenti, dai. Non mi ricordo se ho già provato l'esplosione. Sì, era la cosa delle meteore. Sì, l'avevo già provato, ok. Vieni qua, che ti faccio saltare in aria. Ok. Pronti? Punto. Prendilo, 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 prendilo. Mi dispiace dirvelo. Ma tu vieni punto. Quello eliminato. L'abbiamo fatto. Vero? No, altri. Vabbè, questi sono scarsi. Allora. Perfetto. Ah, è tutta la meteora, ci ha pensato lei. Ci stanno facendo fare molti combattimenti, eh. Allora. No, tu devi morire. Basta, hai rotto le balle. Uh, bella. Ora, salta. Ah, che silenzio. Attenzione, che non voglio rifare pezzi. Allora, un altro mantra. Direi di iniziare da là. Allora, uno. Due. Ah, perfetto. Va bene, quindi volevano separarli forse dopo la morte dei genitori. Si sono sempre protetti a vicenda. Scendiamo. Ok, mi sa molto di zona di boss. Cosa dovrei fare? Ok. Prendiamo questo, che ci possiamo servire. Ne ho due. Fermo qua. Oh, merda. Questo è un problema. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Allora, uno è stato eliminato. Due sono stati eliminati. Tumori. No, 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 no. Fermi tutti. Allora. Ok. Beh, direi che abbiamo finito. Uno. Due. E quello lo eliminiamo con l'arco. Non abbiamo finito, ok. Ragazzi. Fatela, bravi. Aia. Mi sono per uccidere, mi sono per uccidere. Allora, uno è eliminato. Pungilo, 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 pungilo. Pungilo. Ah. Non ho male. Ok. Direi basta, eh. Ho visto qua. Una cosa dove ci si può arrampicare. Mi sa di unico posto dove possiamo... Dove si può andare. Quindi saliamo di qua. Op, op, op. Op, op. Ok. Un'altra di questi arrampicanti. E c'è un albero. No! L'ho visto dopo che ero storto. E vabbè. Due. Vai. Salta, salta. Non era quello che volevo fare, ma va bene lo stesso. Raggi, per favore. Guarda, ti metti già così. E sali dritta, dritta. Ah, no. Non si vede assolutamente niente. Così dovrebbe essere giusto, no? No. Cavolo, è difficile la percezione. Allora. La terza volta è quella buona. Così. Mi mostra anche quando è pronta a saltare. Cos'è questo posto? Si sta congelando? Ah, un altro potere. Ok. Cos'è questo posto che mi ha sumonato a questo posto? Come potrei stoppare questa guerra e salvare il mio fratello? Mahadev, mi troverò il mio posto. Ok. Facciamo così. E poi... 3. Attacca e ripetizione dei tuoi nemici li congela. Colpisce i nemici con... Nemici con stalla TT di ghiaccio letale e congela i nemici all'istante. Ok. Mennomale li rallenta parecchio. Non sarà come il fuoco. Letale come il fuoco ma... Ci dà una mano comunque. Soprattutto contro quelli super veloci. Vedete che sono lentissimi adesso. Ci rendono sempre la vita facile. Eh, attenzione. Punto. Ok. Possiamo proseguire ora? Direi di sì. Uno. Due. E tre. Saliamo di qua. Non posso attraversare la cascata. Arrampichiamoci. Aiuto che fastidio. Mi ha fatto un effetto strano questa cascata. Ok. Basta arrampicarsi, per favore. Siamo morti più con la caduta. Che con... Come si chiama. Con i mostri. Addirittura. Addirittura... Va bene. Staremo attenti allora. L'avrà tipo trasformato in un demone allora? A questo punto? Punto. Punto. E punto. Ok. Ovviamente non è finita. Mori. 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 Ho detto. Eliminato. Come ho detto, ci stanno rendendo la vita troppo facile. Ogni volta ci danno un potere per contrastare le nuove cose che fanno i mostri. Cioè, mostri veloci, congela e li rallenti. Vabbè, per carità. Ci può stare. Ok. Facciamo finta di niente. E si prosegue. Beh, non dovrebbe mancare molto a qualche tipo di boss. Ah, eccolo qua. È un mantra. Tonk, tonk. Così? No. Così. Così. No. Attenzione. È il padre? Sì. Ok. Ci spiegheranno della roba, sembra. Vediamo un pochino. È il padre di Piplara, un aspecto di Lord Shiva. Quando Piplara era solo un ragazzo, suo padre Dadeji ha dato il loro bambino e sacrificio alle devas per combattere i asurati. Piplara asked the devas why his family should suffer such bad fortune. And they told him it was simply due to the alignment of the planets. Ok. Piplara was furious at this fate and cursed Shani of the ringed planet whose celestial home started to fall from the sky. The devas interceded pleading for mercy on Shani for Piplara to lift the curse. Piplara agreed on the condition that Shani's position would no longer bring trouble on anyone of less than 16 years old. Ok. Ah, this is the marriage of Shiva to Sati which angered Sati's father Daksha greatly. Daksha snubbed the girl and insulted Shiva in public. Sati was unable to bear it and threw herself into the sacrifice of fire. Shiva fell into a great rage and pulled a lock of her from his bro lashing the ground with it and there sprang up Virabhadra fierce warrior of Shiva who destroyed Daksha and extinguished his fire even even I could not stop him. Ok, quindi era molto forte. The birth of Ashwadthama gifted to his father Drona after many years of penance born with a magical gem in his forehead that made him a mighty warrior. after Drona was killed through trickery Ashwadthama issued a challenge to Arjuna both warriors used mantras to create mighty world destroying weapons e addirittura Arjuna was wise and withheld his weapon but Ashwadthama did not instead directing it at Uttara Arjuna's daughter-in-law utterly destroying the lineage of the Pandavas non era finito Krishna cursed Ashwadthama and cut the gem from his forehead for thousands of years he roamed the forests of the world with blood and pas uru schifo oh is rumored he walks there still oh questo è un potenziamento c'è un potenziamento un potere speciale there was a time when I was to take from upon the earth as Rama Lord Shiva was greatly pleased and wished to travel with my avatar in my journey to aid me but Parvati begged him to stay with her there was a devoted king Kesari of the monkey people who prayed to Shiva for a child and so as a means to assist me and as boon to Kesari Shiva was born as Kesari's son and became Hanuman who was help to my Rama ok che succede perché questo ma lo spero col braccio di un demone fermo l'ho già eliminato perfetto prossimi così congelato con la casa uh bella perché quello è esploso perché era congelato chi lo sa perché che succede va bene un altro punto esperienza che ormai ci servono a ben poco ma presumo che abbiamo tutti facciamo così guarda allora se io dovessi cambiare arma ok rimangono così arriveremo a un punto dove potremmo cambiare sia arma che potere dell'arma perché adesso scusami ok adesso stavo dicendo possiamo usare solamente un potere alla volta dato che abbiamo poche sfere dovrei toglierle e rimetterle ogni volta e non mi va tanto cioè non è vale la pena più che altro è questo sono state bruciate penso che lo scopriremo molto presto eliminalo 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 sì questa cosa del congelamento è molto forte non male non male fermo dai è troppo forte attenzione sono già tutti bruciati dov'è il problema cioè nel senso cosa ti spaventa no Nooo! Bisogna essere visto. Bisogna sapere di cosa è capabile di Mahabana Sura. Mi sorriso, Raji. Sua quest... non è più solo per il suo figlio, ma per tutti che soffrono questo malo. No, stiamo sbagliando. Eccolo qua. Così ci siamo. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Ok. Perfetto. No, 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 no. The mystic chieftain was forced to give up the scroll. He had kept secret for so long. E cosa c'è dentro la pergamena? The mystic chieftain. 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 Siamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video. Il prossimo video. The mystic chieftain.